Allora palindromi, oggi voglio parlarvi del fatto che tante volte i vostri problemi di scrittura non sono problemi legati alle azioni che fate, ma sono legati al modo in cui pensate, ovvero per esempio prendiamo il classico trucco di produttività del metodo del pomodoro, ovvero si prende questo timer, questo orologio, e lo si setta per avere un intervallo di un 20-25 minuti poi ci possono essere anche delle lunghezze maggiori, alcuni fanno il pomodoro doppio, fanno pomodori più lunghi, insomma si chiama così perché è un tipico timer da cucina a forma di pomodoro e si usa per tot tempo e tu per tot tempo rimani focalizzato tu metti ok adesso io per 25 minuti rimango pienamente focalizzato e faccio quello che devo fare, 25 minuti è un tempo breve, ce la posso fare, insomma è una cosa fattibile posso non guardare il cellulare, posso non guardare le mele, solo 25 minuti, tu con 25 minuti fai più che puoi, suona poi questo timer, no? appunto tipico timer da cucina a forma di pomodoro, ma basta una sveglia qualsiasi e a quel punto hai diritto ad avere 5 minuti di pausa che di solito basta la malapena per andare in bagno o farsi il caffè nella macchinetta, ecco, ok? però è un modo per obbligarvi a non fare così, tipo fai un minuto che scrivi, fai cellulare, mail, telefono, il vuoto, ah che bello il vuoto, la muffa sul soffitto, ok? perfetto ora questa cosa all'inizio funziona perché siete gasati, siete entusiasti, avete scoperto il trucco che vi sblocca la vita, avete hackerato la realtà, tutte quelle stronzate perché state applicando con pure la forza e volontà qualcosa, poi basta l'entusiasmo iniziale e il vostro cervello dice sì ma scusa, cioè, cosa c'è di meraviglioso in tutto questo? e voi cominciate magari a fallire, perché? perché avete una procedura che è assolutamente sensata poi 20, 25, 30, alcuni fanno un'ora di attività costante e poi magari fanno un quarto d'ora di pausa è assolutamente a scelta, è un meccanismo che va costruito in base alla persona però se non c'è dietro un pensiero diverso, la semplice azione prima o poi verrà sconfitta perché la semplice azione, come detto, è stacazzata qui mentre quello che conta in realtà sarebbe addestare il pensiero un po' perché per fare il pomodoro e obbligarvi a non guardare lo smart o state facendo uno sforzo di volontà il pomodoro funziona perché di base in questa tecnica tu fai uno sforzo di volontà molto ridotto che tutti possono fare ma il principio è sempre quello sbagliato a livello neuroscientifico, a tendica del pomodoro si fonda su un errore concettuale, ovvero l'erosione della volontà mentre invece le procedure dovessero di cambiamento del pensiero in modo che noi creiamo nuove abitudini positive che non richiedono una violenta erosione della volontà per esse applicate ma ci creano un sistema che noi riteniamo gratificante che pratichiamo in automatico senza doversi sforzare per quanto poco neanche quello e in automatico facciamo le cose un po' il meccanismo con cui a una persona media se gli dicono dai adesso applica il pomodoro e fai queste cose che non vuoi fare tipo sistemare i conti di caso dice oddio va bene, ok sì la tecnica del pomodoro è più fattibile che non pensare che devo fare semplicemente tutto questo lavoro allora mettiamo il time, poi 5 minuti ok in qualche modo ce la faccio però vedete il tono non è esattamente entusiasta invece questa persona è un fan di Elder Ring e tu gli dici ma dai ma vai a giocare 5 ore al Elder Ring subito non c'è uno sforzo di volontà vedete? perché la sua abitudine è favorevole a giocare a quello ok? perfetto quindi abbiamo una questione di fondo che una tecnica può essere efficace quanto volete perché magari richiede pochissimo sforzo ma l'ideale sarebbe andare a toccare il pensiero anche perché prima o poi che la tecnica sia semplicemente un trucchetto ve ne accorgete e il vostro cervello vi dice quanto stronzo sei e tu a questo punto smetti anche di usare il trucchetto dimostrando che sei stronzo due volte perché il cervello ti ha detto che ti sei fondamentalmente fatto abbindonare da una tecnica che però funzionava e tu a questo punto come reazione cosa fai? la abbandoni? stronzo una volta stronzo due volte non è che esattamente che cioè dè pure ragione al cervello va bene lasciamo stare comunque l'ideale sarebbe seguire pratiche di pensiero che ti rieducano perché il problema ad esempio non è tanto il pomodoro ok? abbiamo detto c'è un errore fondamentale dietro nell'applicarlo ma di per sé se volete applicarlo semplicemente per strutturare il tempo ma avete dietro i pensieri corretti può anche andare bene perché uno magari può calcolare quanto scrive in pomodoro e dice ah in questo pomodoro ho scritto ho scritto 500 parole ah in quest'altro pomodoro altri in un'altra mezz'ora diciamo complessiva di pausa ho scritto 800 parole oh cavolo 800 parole buono scrivo 500 e dopo il punto ti chiedi cos'è cambiato in questa scena scopri magari che è una scena che ti interessava di più che è stata più facile scriva la conoscevi meglio insomma arrivi a fare dei ragionamenti ma questo è un discorso diverso quello che volevo dirvi è che quello che conta qualunque cosa vogliate fare dopo il pomodoro quello che volete ok? vi riconoscete un'elegato da combattimento siate quello signori dovete necessariamente cambiare i vostri pensieri perché? perché ad esempio mettiamo che applicate la vendica del pomodoro e poi la mollate la mollate perché in queste corse di 25 minuti scrivendo perché voi interpretate la vendica del pomodoro come devo scrivere come un forsennato qui già ci mettete un errore cognitivo dentro la state interpretando non dovete interpretare le cose se non dovete fare giusto voi scrivete come dei pazzi e vi accorgete che i brani scritti col pomodoro è vero che scrivete di più ma sono molto più zeppo di errori e più stressanti perché voi sentite non essere pronti a questo punto viene che probabilmente state sbagliando qualcos'altro ancora perché arrivate a scrivere senza essere pronti avete affidato la tecnica del pomodoro la soluzione a tutti i problemi quando il problema è che non eravate preparati a scrivere le scene quindi un problema di pensiero non avete riflettuto profondamente su che cos'è una scena non l'avete pensata e vista in vostra mente non avete fatto il lavoro preliminare e allora vi trovate poi ad accusare la povera tecnica del pomodoro che colpe non ne ha a parte estero ovviamente molto primitiva adatta un po' a tutti infatti l'applicano in tanti perché non richiede raffinate conoscenze della mente umana e un percorso di miglioramento individuale la puoi dire a chiunque e anche uno che passa il tempo con la clave in mano facendo uga 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 e sbattendola contro la parete è in grado di applicarla ok? non serve che abbia conoscenze sul funzionamento delle abitudini o altre cose ok? quindi è efficace proprio perché è primitiva ma proprio perché è primitiva è inefficace in tanti altri casi ok? e noi stiamo ragionando in quei casi in cui diventa inefficace perché c'è un problema di fondo più semplice del fatto di dire a qualcuno sai come fare per scrivere? prova a metterti a scrivere e lui fa corbezzoli era la soluzione esatta ok? mettiamo che c'è un altro problema ti metti a scrivere fai la tecnica fai quello che vuoi ma ti accorgi che scrivi male o ti accorgi che è troppo stress o ti accorgi che è di qualcos'altro e quel qualcos'altro può essere qualunque problema da un problema di produttività legato a un approccio alla scrittura il tuo problema era non stare 25 minuti a scrivere il tuo problema era obbligarti preparatoriamente a ragionare sulle scene quindi magari il pomodoro non dovevi applicarlo sulla scrittura dovevi applicarlo solo obbligarti a pensare alle scene dove diventavo ok io adesso mi dedico un pomodoro di tempo a ragionare e visualizzare correttamente la scena che scriverò domani ecco magari dovevi applicarlo lì oppure possono essere problemi non di questo tipo ma problemi legati proprio a disturbi di pensiero quindi magari tu ti trovi a essere un perfezionista e quindi il pomodoro di tua mettendo di questa pressione e tu vorresti proprio limare e scegliere al meglio tutto che in buona parte legato al fatto non è preparato prima non facciamo finta di niente tu ti trovi magari a non sapere come scrivere a sentire la pressione del pomodoro addirittura quando poi scocca e suona e tu hai scritto 150 parole e ti senti un fallito questa è un'emozione positiva che vogliamo collegare alla scrittura al senso di fallimento probabilmente no e quindi vedete un problema di pensiero all'origine prende una tecnica che di base dovrebbe funzionare dovrebbe dare un aiuto e la trasforma in un calvario la trasforma in un motivo di insoddisfazione la trasforma in un motivo di ulteriore diciamo accusa di se stessi e senso di impotenza e senso di inadeguatezza e senso di essere dei coglioni marci fino al midollo insomma è un po' un problema perché perché abbiamo un'azione collocata prima di un cambio del pensiero quindi voi va benissimo che cambiate le azioni ma non dovete cambiare le azioni e basta voi dovete cambiare i vostri pensieri se cambiate i vostri pensieri conseguirà un cambiamento delle azioni ovviamente guidandovi dandovi dei consigli insomma non è che vi si dice cambia i tuoi pensieri e basta non vuol dire niente ok cambiare i pensieri spesso è acquisire con la capacità razionale di analisi che permette poi di capire anche le soluzioni migliori da attuare dopo ok come dire che se siete dei ciechi e vagate sbattendo contro i pali forse la cosa migliore sarebbe ridarvi la vista non darvi un'istruzione che vi dice che il modo sicuro per non sbattere contro i pali è fare 5 passi avanti 4 passi a destra 1 passo avanti 2 passi a sinistra 3 passi indietro peccato che tu lo applichi in un posto che non sia il posto esatto di quando ho progettato quella mappa e il palo lo becchi ok se invece ti ridanno la vista te dici ah ok sto palo che prima stava lì l'ha spostato lì quindi se faccio 5 passi avanti sbatto allora facciamo che ne faccio 4 e poi vado a destra è risolto già capite? bisogna risolvere all'origine non bisogna risolvere il sintomo che te non ti metti a scrivere è un sintomo va risolto il problema cosa causa il sintomo della non scrittura qual è il problema all'origine e il problema di solito sarà un problema di pensiero che ti porta in questo caso abbiamo detto che non stai scrivendo quindi stai procrastinando la scrittura ti porta a rimandare la scrittura a procrastinare la scrittura ok? quindi va visto per quale motivo procrastini? sei un perfezionista hai paura del giudizio altrui hai paura di fallire hai paura di avere successo e non stare all'altezza di rifare le stesse cose così belle in future opere che problema c'è all'origine? ma questo non si può risolvere facilmente come detto sono cose che vanno affrontate in modo un po' più dettagliato non per niente abbiamo messo una bellissima offerta che contiene procrastinazione che vi dà tutti gli strumenti mentali per prendere pieno controllo del vostro pensiero tramite una filosofia del pensiero molto pratica fondata sulle neuroscienze e che ha le origini nel pensiero stoico quindi pensate a Marco Aurelio Epiteto quella gente l'insomma ok? e voi potete avere accesso a questa offerta fino a domenica 14 aprile potete avere accesso a questa offerta sia da sola che con i corsi avanzati doppio corso avanzato oppure soltanto il doppio corso avanzato e questa cosa non serve insomma signori le offerte sono qui c'è lo schemino c'è il link sotto il video torniamo a parlare della questione e basta va bene? queste cose qui sapete che ci sono sapete la scadenza sapete la garanzia è tutto scritto nella pagina di vendita avete pochi giorni torniamo a parlare dell'argomento ok? perché queste cose si applicano anche in altri casi i problemi di pensiero sono esattamente i motivi per cui le vostre storie non escono fuori ovvero voi vi trovate tante volte ad avere magari delle storie delle storie che potrebbero essere molto molto interessanti per esempio avete delle delle idee delle visioni dei concetti che sono molto buoni magari non lo so siete una persona che appena diventata genitore avete delle illuminazioni dei concetti che avete collegato con questa esperienza sulla paternità sulla maternità su quello che volete il problema è che qualunque storia pensate non vi viene e non vi viene perché perché il problema è che voi non è che mancate magari di fantasia mancate di strumenti cioè voi avete l'esperienza grezza siete un padre da poco siete una madre da poco avete vissuto certe cose ok ma avete solo l'informazione grezza il dato grezzo anzi scusate neanche ne potete trarre un'informazione che abbia un qualche valore quello che vi serve infatti in quei casi per trasformare la vostra vita che è ricchissima di spunti e se voi non vi accorgete di quanto è ricca di spunti la vostra vita e quanto potete usare quello che vedete fate sentite per creare narrativa è proprio la prova provata che non avete gli strumenti per trarre queste cose è come se voi foste delle persone in un'area dove tutti gli indizi se fosse un perito minerario vi farebbero capire che ci sono delle grandi vene d'oro e che facilmente potesse trovare l'oro scavando in certe aree in certe direzioni ma voi non avete queste competenze vi serve semplicemente di stare in una zona brulla dove le patate che volete coltivare non si possono coltivare allora vendete questo terreno lo abbandonate ne comprate un altro più adatto alle patate quello a cui lo vendete è un perito minerario che ha capito benissimo come era il terreno e quindi fa la sua miniera e troverà valanghe d'oro capite che è un problema sarebbe più bello se voi la vostra miniera d'oro delle vostre esperienze di quello che avete vissuto o visto o sentito o che potete esplorare con lo studio la vera miniera d'oro su cui si fonde la scrittura voi possiate sfruttarla come si sfrutta? manteniamo l'esempio della progettazione delle storie nei momenti in cui vi padroneggiate la progettazione delle storie che non è mettere in sequenza gli elementi come dei poveri dementi signori ora chi vi insegna che l'arco di trasformazione è fatto soltanto con gli elementi riempili è un demente quella è la cosa che ho sempre insegnato io fin dal 2020 che significa martellare la storia no perché allora c'ho in mente sta storia allora sì il suo difetto è questo ah però quel finale sarebbe così no facciamo e tu martelli no è generativo tu impari dei principi impari che cos'è la premessa come la premessa si combina con la posta in gioco e con il difetto fatale come la posta in gioco ci fa riflettere sul difetto fatale come arriva la costruzione dell'empatia e tu magari mentre pensi alla costruzione dell'empatia pensi sto facendo troppo cliché e qui diventa che cos'è l'empatia e torna il ragionamento e diventa ok l'empatia è questa come si sposa con la posta in gioco la forza la posta in gioco andava bene quindi e tu 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 amalgami amalgami fai nascere da dentro di te in un processo maieutico ok dove tu sei simultaneamente tramite la teoria la teoria tu come detentore della teoria diventi il mentore ok il tuo inconscio che ti lancia le idee diventa lo studente ok e tu parlando tramite la teoria con il tuo inconscio che ti lancia le idee tu fai un processo di maieutica per aiutare il tuo inconscio a tirare fuori idee sempre migliori sempre migliori tramite l'insegnamento e tramite gli stimoli tramite l'ascolto che fai di quello che ti dice lui ti dice oh potremmo fare che il protagonista salva un gatto e tu gli dici certo salvare un gatto è sicuramente un'azione etica è bella ma salvare un gatto è un'azione che abbiamo già visto spesso o è un'azione innovativa e il tuo inconscio pensa e dice ah è un'azione che abbiamo già visto spesso è proprio vero allora potrebbe salvare un cane e ti dice ok mi è cambiato l'animale ma era il concetto essere un po' così allora salva una ragazza da una violenza e tu gli rispondi figliolo è il cliché della damigella in pericolo per favore e tu a un certo punto ci pensi ci pensi ci pensi i vari percorsi arrivi a fare lui ammazza un cagnolino ma è un cagnolino che è stato investito e sta soffrendo e può soltanto morire la questione è se adesso dovrà morire nel dolore in una lenta agonia o se lui lo sopprimerà per carità è appena fatto l'inizio del primo episodio di House of Cards dove un certo personaggio deve essere moralmente giusto ma essere moralmente giusto anche nella sua capacità di essere spietato e lui ci fa capire che non sopporta il dolore soprattutto il dolore degli animali e questo cagnolino investito può soltanto continuare una morte atroce ok e lui si prende la responsabilità di sopprimerlo prima che i padroni lo sappiano perché di fronte ai padroni i padroni non lo accetterebbero perché lo amano troppo ma lui è uno sconosciuto quindi quello che i padroni perché lo amano troppo non potrebbero fare cioè ucciderlo o vederlo morire davanti a loro lui lo può fare senza che loro lo sappiano e digli che è stato investito ed è morto sul colpo ok in questo modo toglie una fetta del dolore ai padroni che non lo vedono agonizzare e in più perlomeno dicono ok è morto è morto però è morto senza soffrire perché non sanno cosa è accaduto e anche l'animale gli ha ridotto la sofferenza questo è il passaggio di una mente che passa dalla soluzione più facile a una soluzione meno facile perché magari era quella più adatta a quel personaggio che non era tanto un personaggio da salvaghiattino ma era un personaggio da sopprimi la sofferenza ok questo come viene fuori perché tu nel processo maieutico la tua mente mentore ok ha lavorato con l'inconscio l'inconscio studente fino ad aiutarlo a tirar fuori il meglio di sé non le prime risposte quelle più banali ma le risposte migliori quindi se tu vuoi installare un mentore dentro di te e quindi avere a tutti effetti un insegnante permanente che sia la tua mente conscia che ti possa aiutare a sfruttare l'enorme miniera d'oro perché lo studente inconscio è la miniera d'oro che abbiamo parlato prima è pieno di ricchezze ma devi saperle trarre perché lui di base ti proporrà sempre un sasso non una pepita sempre un sasso tiene un sasso un altro sasso che abbiamo dell'altro sasso guarda che bella roccia ma tu lo aiuti a indirizzarsi fino a quando trova l'avena d'oro e diventa sai qui qui c'è dell'oro dentro in questo sasso qui abbiamo del quarzo e c'è dell'oro accanto e tu continui 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 e lo aiuti a un certo punto ti cava fuori tutto l'oro ok tutto il potenziale enorme che avete inesplorato perché ne avete tanto signori quindi signori se voi volete installare un mentore che vi segua costantemente tramite una teoria idonea corretta funzionante stimolante generativa che permette di trarre il meglio che potete e non di darvi delle imposizioni sciocche ok ma di trarre il meglio delle vostre storie quello di cui avete bisogno è un percorso un percorso che può essere un percorso di sceneggiatura per tirar fuori le storie migliori organizzate ideali non banali basate su principi e non su regolette o anche un percorso di scrittura perché lo stesso approccio poi servirà per tirar fuori la scrittura più immersiva più emozionante più evocativa più capaci di fare innamorare il lettore delle vostre opere ok tutto questo avviene con i doppi corsi di scrittura che potete avere come visto prima rifaccio delle tabelle potete averli da soli a una cifra ridicola soltanto 897 euro e avete accesso ad esercitazioni con me uno a uno in cui vi dedico una serata e facciamo esercizio assieme ok in live oppure potete avere accesso anche beh alle esercitazioni già fatte avete una raccolta di esercizi migliori avete una raccolta delle ultime tre esercitazioni svolte quindi vuol dire che ogni volta che ne faccio una nuova vi tolgo la terza ultima più vecchia vi metto questa nuova e ne avete di nuovo tre quindi vuol dire che se ogni settimana ogni due settimane praticamente facciamo tre esercitazioni al mese voi guardate e rimanete aggiornati voi avete due ore di istruzione di lezione di analisi in più ogni fate settimana e mezza due ok signori è una bella roba siamo arrivati mi sembra a 52 esercitazioni con questo modello più tutte le arretrate insomma è stato un bel ricambio chi era dentro questo modello fin dall'inizio ed è rimasto in pari si è fatto 52 esercitazioni e ha sempre le ultime tre da rivedere ok perfetto quindi signori potete accedere veramente a tanta formazione potrete educarvi per diventare indipendenti sicuri di voi pieni di quella capacità di trarre il vostro potenziale perché signori voi siete ricchi ricchissimi di storia ricchissimi di bellezza ricchissimi dettagli e solo che non sapete come trarli quindi non vendete il vostro terreno che ha dentro una grande vena d'oro per andare in un appezzamento merdoso a coltivare le patate non accontentatevi delle patate cercate l'oro dentro di voi e traete quello quindi signori le offerte sono queste avete la garanzia di 60 giorni potete avere quello che vi pare strategia antiblocco poche assiazioni kpop pensare a tutto quello che volete andate al link sotto il video trovate le offerte signori ora avete la possibilità di trovare l'oro dentro di voi e diventare veramente degli iscrittori che possono aspirare magari come diversi miei studenti a pubblicare con grandi editori signori buono studio